In questo primo modulo vedremo come trovare idee e risorse gratuite sul web, ipotizzando lo sviluppo di un'animazione per i canali soli. Faremo una veloce introduzione ai principali strumenti di Adobe After Effects. Vedremo come preparare un file di Photoshop per importarlo poi all'interno di After. Vedremo fin da subito anche l'importanza dei principi di animazione e delle curve di movimento per animazioni professionali. Affronteremo argomenti come Motion Blur e Puppet Pint Tool, così come alcuni trucchetti del mestiere per ottimizzare il flusso di lavoro. Sempre in questo primo modulo lavoreremo con i Shape Layer e anche con i testi, fino ad arrivare alla fase di rendering, dove vedremo la differenza tra Render Queue e Adobe Media Encoder.